Stavo giocando su Coral e mi sono affacciato sul lato delle classifiche E ho notato che nelle classifiche c'è Felpa Verde Felpa Verde Felpa Verde Felpa Verde E quindi continua sempre a rindondare il nome Felpa Verde Felpa Verde Felpa Verde Felpa Verde Andiamo a dargli fastidio In parole molto povere Vuoi fare un video con me? Sì Perfetto Non c'è stato bisogno di minacciarti Easy Mi fa molto piacere che tu abbia accettato di venire qua Senza troppe moleste Direi di iniziare subito chiedendoti Ma tu sai fare dei tipi di bridge particolari? Sì allora so fare il God Bridge E il Breezy, il Moonwork e tutte quelle altre cose E il God Bridge Diagonale Ok voglio assolutamente vederli Madonna mia Madonna Io questo non lo so fare manco per sbaglio Cioè ogni tanto per sbaglio mi escono due o tre blocchi di God Bridge Questo per sbaglio mi esce di fare schifo Me l'ho cambiato vedo Madonna Niente Tu sei letteralmente in ogni top Nella maggior parte delle top sei al primo posto Quanto tempo hai giocato su Coral? Allora gioco più o meno dall'apertura diciamo Che giocavo così per trollare l'apertura Dopo ho iniziato a giocarci seriamente più o meno da giugno dell'anno scorso E da lì poi sono entrato nelle top Il Disguise comunque lo direi anche no È per femminucce e noi non lo siamo Sei mai stato bannato dal server? Allora sì per colpa di un mio amico Penna Che io avevo passato degli account a lui che gli servivano Che erano bannati da Coral E hanno visto che io questi account li avevo salvati nel computer E mi hanno bannato per quello Già veri nel computer era bannabile Vabbè altre volte anche dall'anticit però mi hanno sempre sbannato Perché così sbagliava l'anticit Ho capito ho capito Te hai fatto in un anno su Coral Più stelle di quante io ne abbia fatte In cinque anni su Epixel Io su Epixel ho tipo 600 stelle Ma non sono nulla in confronto alle tue Quante ne hai? Scrivi un attimo in chat E tipo 100 stelle in più di me E le hai fatte con quattro anni di meno Comunque Anch'io mi faccio valere nelle Sono morto Ti sei mai affacciato sul lato competitivo delle Bedwars o di Minecraft in generale Quindi Ranked Bedwars eccetera Ranked sì ogni tanto ho giocato anche qualche torneo così E che esperienze hai avuto con le Ranked? Allora le Ranked ne ho giocato un bel po' Però non sono la mia modalità principale Boh sì cioè mi piacevano però non più di tanto Hai mai avuto problemi di flame con utenti o cose così? Problemi di flame? Allora sì però non è mai stato nulla di che Cioè poi si è chiarito subito dopo Ho capito Te mi hai detto che da giugno dell'anno scorso Hai giocato con costanza su Coral Quindi sei sempre stato ideato da tutti gli aggiornamenti eccetera eccetera Ok Volevo chiederti Periodo migliore di Coral È questo qui di ora? O c'è stato un periodo di Coral dove a te personalmente è piaciuto di più? Allora il periodo che mi è piaciuto di più era quello che andava da più o meno dal Sempre dall'apertura fino a giugno luglio Perché nelle partite pubbliche c'era molta più gente forte E diciamo che cioè mi divertevo di più Invece qua tutti quelli forti si sono spostati nelle ranked Ok questo è per i player invece proprio a livello di server? A livello di server vabbè come ora ovviamente è fatto meglio rispetto a come era fatto l'anno scorso Però l'anno scorso mi piaceva di più solo per i player No sono caduto Come? Sono un abbo Bella combo Mamma mia pazzarello Qua è da dove stavo andando io sono caduto miseramente Sì ho visto il ponte Ponte è bello quando vieni carriato e non devi carriare te lo giuro Ti dà una sensazione di relax Hai un rosso dietro Oddio Te l'ammazza sfacco tutto Oddio Ok Basta un ciro con knockback Non ti ha hittato Easy glacciata GG GG che bello venir carriati te lo giuro mi fa proprio stare bene C'è mai stato qualcuno che ti ha fatto competizione sul server? Eh sì un bel po' di persone La persona che ti ha fatto più competizione che però poi alla fine hai battuto Chi è? Eh penso Vols Cioè io ero il primo lui Ah che poi l'hai superato? Sì E invece chi è la donna più forte di Coral MC? Non lo so cioè Hai ragione ma chi se le caga le donne? Eh dipende perché ce ne stanno alcune proprio forti che giocano le ranked altre invece di livello alto Cioè non sapete Non ti sapete Cioè è mai stata qualche ragazza che ti ha simpato perché eri forte nelle baddors e voleva che tu la carriassi? Mi chiedevano di giocare però non so se quello è considerato simpatico Eh beh nel senso facevano le simpatiche con te soltanto per poter giocare con te perché eri forte Eh qualche volta sì Qualche volta sì Ok ok dai dimmi di più per favore dimmi di più che a me piacciono troppo queste cose Anche una cosa non so se si può dire Sì 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 dimmi tutto dimmi tutto Insomma è successo anche stamattina ma non sto scherzando Stamattina? Stamattina Stava questa che ho scoperto che poche parole gli interessavano E mi voleva rattare l'account di disco per guardare le chatte mie con gli altri Per vedere se mi interessava o no Ti giuro ancora mi fa paura Cioè nel senso arrivare a rattare una persona mi sembra un po' eccessivo Mi spaventa un po' Io non ho provato Oh questa qui voglio il suo contatto Che cazzo Non ho parola Io quando ho sentito questa storia ho pensato Fabio Ero io che mi fingevo nigh girl Credo di essermi innamorato È successo tutto stamattina Questo cioè è veramente da un po' che succedeva Però io stamattina l'ho saputo Insomma e tu lo ritieni un atto d'amore questo? Tantissimo guarda Mi aspettavo di sentire di tutto Tranne che questa cosa te lo giuro Io stamattina subito non saprei Stavo in partita mi scrive uno O comunque ci sta quella che è tu le rattare E ha detto ah bene No perché invece a me pure è capitato cose del genere Tipo ha 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 sei simpaticissimo Posso darti la mia anima in cambio di poter giocare con te? Cioè te lo giuro sono arrivato a delle cose improponibili Persone che proprio reputavo amiche Che alla fine era soltanto perché ero admin su coral O proprio volevano dei favori o cose così Ah vabbè Infatti ho preso ho bloccato e vaffanculo Ecco tu pestali di botti Io li li vai 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 Pestalo Pestalo Sì 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 A posto Te lo giuro se continuo a laggare di fps Senza alcun motivo logico Io prendo la mia testa sulla scrivania E la sbatto fin quando non arrivo al piano di sotto Sì 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 C'è giusto un po' di Oh pure i rosa Dai ragazzi la bandiera LGBT si sta formando Let's go Oh ma ci abbiamo già l'impasto zi Lo so c'è un rosa con l'arco Eh niente Attento no Ti ha shottato male Ah ma aspetta ma Gandalf Mi hanno sempre parlato malissimo di sto Gandalf Eh segreto No è Gandalf Mo ti spiego In un video di Carpi In cui si spingeva svantaggio Carpi No l'ha duellato in bando di buff E si givava le pozioni Per non essere battuto da svantaggio Si givava le pozioni Che in realtà svantaggio era Carpi Insomma Su Coral spona tantissimo ore in più rispetto a The Pixel Secondo te ci sta come cosa? Io ho notato che c'è proprio tutti e due materiali sponano più veloci Perché sui Pixel quando stai 16 di ferro stai anche 4 di oro Qua stai a 20 Esatto E' meglio così perché se Pixel diciamo non ci gioco seriamente da più di due anni Ormai mi sono abituato qua Altre cose Quindi Ah beh sì Inaspettato prendendo le ricevute Asciugate il rosa So caduto soli io Ti rendi conto? Ti rendi conto quanto sono pazzo? Sono pazzo? Sono pazzo? Sono crazy? I'm crazy? I'm crazy? I'm crazy? Sono pazzo? Più adesso a screen? Più adesso a screen? Mi hai rotto il letto? E qua? Flavio Melli 1991? Marameo Guarda qua Guarda qua cosa so fare? Tu lo so fare il Ferris? No No lo so fare il Ferris Eh? Oh cazzo sto sonendo Quando tu hai mi schianto malissimo Dipende Che la vita c'hai Sei full? Sì Se faccio un fireball jump Ce l'ho dietro Oddio No Come non è morto? Occhio No no Non ci credo Non ci credo Mi stavo glasciando sulla bandiera Signor Felpa Grazie mille della sua compagnia Di nulla È stato un piacere È stato molto divertente sentire un po' Alcune cose di coral Da chi comunque corra Lo gioca parecchio E spero che quella donna Ti molesti di meno Non arrivi ad A Da Gherarti La vita Sì